Sono senza parole, Montorio non si merita questa fine, stiamo verificando ma non credo ci sia la possibilità di andare avanti. Parole piene di sgomento e preoccupazione, quelle del sindaco montoriese Gianni Di Centa, lista civica si può fare, all'indomani delle dimissioni di cinque consiglieri del gruppo di maggioranza, tra i quali gli assessori Agnese Testa e Alfonso Di Silvestre, seguite e cascata da quelle di due consiglieri di minoranza. La logica conseguenza potrebbe essere il commissariamento del comune, il condizionale d'obbligo perché le dimissioni dei sette non sono state contestuali, da qui il confronto tra amministrazione e prefetto per decidere sul futuro di Montorio. Ma come si è arrivati a questo punto? Gli ex rappresentanti della maggioranza hanno affidato ad una nota stringata le loro motivazioni in cui accusano il sindaco di aver tradito lo spirito dell'originario progetto di ispirazione civica, tradimento che si sarebbe concretizzato con la campagna di tesseramento diretta e indiretta nel Partito Democratico. Una situazione a fronte della quale il gruppo dimissionario avrebbe atteso fino ad oggi sperando in un ravvedimento e nella possibilità che il progetto civico potesse andare avanti. Per il sindaco Gianni Di Centa, che ribadisce di non avere nessuna tessera di partito, si tratta di un atto irresponsabile in un momento delicato per Montorio che sta programmando la sua ricostruzione. La parola ora passa al prefetto Patrizzi.